Cominciato dunque a questo azione. Il grande palazzo Siro! Amici di Settegolda, buona domenica sera, ben ritrovati a Diretta Stadio. È la sera e la notte di Milan-Juventus da San Siro. E noi siamo qui pronti a raccontarvela in una grandissima serata di calcio con Tiziano Crudeli. Buonasera, Tiziano. Buonasera, 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 buonasera. Valerio Pavesi, ciao Valerio, ben ritrovato. Buonasera, buonasera a tutti pronti a combattere. Formazione ufficiali, squadre tra poco in campo. Partiamo dal Milan, vai Tiziano. La formazione del Milan comunque, Donnarumma in porta, difesa, Dallò, Chiar, Romagnoli, Teo Hernandez, attenzione, a centro campo, Calabria e Chessi, poi Castiglieco, Cialanoglu, Agle, Ooghe, scuse, e Leao di punta. Come risponde la Juventus, Valerio? La Juventus risponde con un 4-4-2, Cesni in porta, difesa formata da Danilo, De Ligt, Bonucci e Frabotta. Centro campo, da destra a sinistra, Chiesa, Bentancur, Rams, Rabiot in attacco. Di Bale, Cristiano Ronaldo fuori per Covid, Alexandro e Quadrado e anche Morata. In fortunato, stasera, impossibile sbagliare, vivere o morire, la Juve deve vincere per forza. Aughe, 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 tiro di sinistro, il miracolo di Cesni in corner, settimo minuto. Guarda qua Bentancur che cosa combina, ma cosa combina Bentancur, Don Rodrigo, perde palla, una cosa veramente inspiegabile. Attenzione al tiro, il tiro da parte di Frabotta, che è stato servito con un assist da Di Bala, rivediamo, la Juve ha avuto una buona occasione, era una palla persa, poi il palone era cambolato sul sinistro di Frabotta che ha tirato, palone che è terminato alto. Quello che volevo dire su Bentancur semplicemente, vedi di sputare sangue stasera, perché se no vengo lì a prenderti, che un errore così è allucinante. Vengo anch'io. Cesni nella nostra area di rigore che rinvia a rasoterra per Adler Rabiot, che in questo momento si è spostato sulla destra, riparte la Juve, lancio leggermente lungo, ma Bentancur ci arriva sul pallone, proviamo a ripartire con Aaron Ramsey, superiamo la zona del centrocampo, Cristiano Ronaldo sulla fascia sinistra, prova a puntare da l'ho, le finte di CR7, entra dentro l'area di rigore, CR7 se l'ha sul sinistro, attenzione, parte il cross, Schiar, calcio d'angolo, calcio d'angolo, andiamo, Polino mettila in mezzo, parte il traversone, il colpo di testa di De Ligt, il pallone ancora buono, dentro l'area di rigore, CR7 se l'ha di testa lontana. Ancora la Juve dentro l'area, attenzione, Chiesa, palo, palo di Chiesa, palo di Chiesa, palo di Chiesa, la Juve va vicino al gol. De Ligt recupera il pallone, la squadra bianconiera, ancora Frabotto che ha partito bene, sul versante sinistro avanza il numero 38, affrontato da Dalò, si spinge sul fondo, parte il traversone, calcio d'angolo, andiamo, andiamo a segnare, dai! Buono l'assi di Paulino, Chiesa, rete! Juve in vantaggio, ma che gol! E' gol di Federico Chiesa, su assi di Paulino, la conclusione con il destro, Juve in vantaggio, meritatissimo, 1-0. Buono Chiesa, riesce a saltare Teornandez, il pallone in mezzo, la conclusione di Cristiano. Via, 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 via! Via, via, via! Ah, gran sinistro! De Ligt recupera il pallone centrale per Chiesa, superiamo il centrocampo, si vuole la Chiesa verso l'area di rigore, solo, scarta, Romagnoli in sinistro! E c'è la parata di Donna Roma! Dobbiamo assolutamente sfruttare queste palle inattive, Juve, che abbiamo visto che sul possesso del pallone, già il secondo errore, il secondo errore, e rischiamo di farli andare in porta. Non dobbiamo, non dobbiamo commettere queste disattenzioni. Attenzione sulla sinistra, Leao, Leao, entra in area, Leao, converge, tocco centrale. Calabria! Go, 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 Calabria! Chiedo scusa Calabria, se mi sono permesso di criticarti all'inizio, hai fatto un grande gol! ragazzi, 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 scusate, ragazzi, calabria, ma c'è fallo, c'è fallo su Ravio! La Juventus è contesta? Calabria! 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 Troppo lento! Troppo lento! C'è donna, c'è donna! La mia donna preferita! Ragazzi, ma è fallo, grosso come una casa! Calabria! Calabria! Ma io dico, ma quello del VAR! Calabria! C'è il VAR! Il signore Abisso dal VAR! Il signore Abisso dal VAR! Il signore Abisso dal VAR! C'è il VAR! C'è il VAR! Non la vediamo a vedere il VAR! Sedute! Dobbiamo mantenere il distanziamento, anche... Eh, allora, via, io ti ho riempirla! Anche per me, seduto al tuo posto... Seduto al mio posto se non mi provoca! Anche se ti provoca non puoi alzarti dalla tua postazione! Non posso alzarmi? Allora stai bene attento a cosa dici! Posso dire la mia? No! Posso dire la mia? È fallo! Non è fallo! È fallo! Non è fallo! Tizi, tizi, tizi... Non è fallo! Certe regole le dobbiamo rispettare a prescindere! Se è un problema io posso anche andare! A prescindere dobbiamo... Non è un problema, io posso anche andare... No! E lascio solo a voi il piacere e l'onore di commentare! Non è scoccato in questo momento il 45esimo, finisce qui il primo tempo! Mila-Juventus sull'1-1! Speraremo ancora la Juve con Bentancur al ridosso della rigore! Chiesa sul versante destro, ora si sposta il gioco per De Ligt che è dato a dare una mano agli attaccanti! Parte il traversone! Mila-Juventus suori! Ma cosa sbagli da lì? Cosa sbagli da lì? Erroraccio di Alonso... Chi sei? Ma chi sei? Ma chi sei? Federico! Federico 2-1! Ha ricevuto l'assist, è rientrato in area di rigore! Se l'è portata sul sinistro, ha concluso e ci riportiamo in vantaggio! Vai! Vai! Attenzione perché ce ne andiamo, attenzione perché ce ne andiamo con Kulusevski, campo aperto! Entra dentro l'area, Kulusevski, Kulusevski se la lunga troppo! Dejan dalla prima! Dalla prima, Dejan! No, non tiriamocela, voglio essere positivo, però attenzione! Però attenzione perché ne ho viste troppe quest'anno! La camicia è quella là! La camicia è quella là! Sì, è quella lì, porta fortuna! Tieni, tieni, c'era la maglia! Le maglie ci sono, però sinceramente finché si vince... Tieni mano le maglie! Sì, sì, sono quattro! Cominciate con queste ciattronate di maglie e camicie, vengo lì, ti do io un pugno sulla spalla! Attenzione Franci, guarda che ripartiamo con Cristiano Ronaldo sull'out sinistro, c'è Kulusevski che si accentra, in questo momento la Juve rallenta un pochino il gioco, il passaggio dentro per me, Kenny! Il miracolo di Donnarufo, che parata che ha fatto! Che parata! Milan, non imparte il Milan! No, 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 chiudi, chiudi! Quattro conto... Sì! Ma no! Hai preso il pallone! Hai preso il pallone! Ma che è munito! Non ci credo, che è munito! Questa sa tanto di compensazione! Adesso parte la Juve! Dai che ripartiamo con Rabiot, che supera la zona del centrocampo, il passaggio sulla destra per Deja Kulusevski, si accentra Deja con un'azione delle sue, entra dentro l'ora, McKinney Road! Winston! 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 McKinney! 3 a 1! Grandi ragazzi! Grande azione di Kulusevski, che si è fatto tutta la fascia, è entrato dentro l'area, ha messo lui l'assist per il giocatore americano, che ha insaccato! 3 a 1! Cambia zaccati di pirlo! Da rivedere, almeno da rivedere! Non da rivedere, non cambia niente! Sì, sì, rigore! Sono il primo a dirlo! Questo è calcio di rigore! Questo è calcio di rigore per il Milan! Vediamo se, vediamo tra pochissimi, eccolo, è finita qui Juventus! A Milano, Juventus batte Milan 3 a 1 i gol, 18esimo Chiesa, al 41esimo ha pareggiato Calabria, al 61esimo Chiesa ha portato in vantaggio 2 a 1 i bianconeri e poi al 76esimo McKinney ha segnato il terzo gol. Io saluto e ringrazio chi ci ha raccontato così bene Milan-Juventus di questa sera, Tiziano Crudelli, buonasera Tiziano, buonanotte! Buonanotte! Valerio Pavesi, ciao Valerio! Non ridere! No vabbè! Non ridere! No vabbè, pensavo un saluto normale per quello, per cui è molto dispiaciuto! Vuoi salutarlo tu? No, no, lasciamo stare! Non vorrei avere ripercussioni fisiche! Buonanotte a tutti! Buonanotte a tutti!